I finanzieri dei comandi provinciali di Napoli, Roma, Catanzaro e Reggio Calabria, unitamente ai finanzieri dello Scico e ai Carbinieri del Ros, coordinati dalle rispettive direzioni distrettuali antimafia e dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, stanno dando esecuzione a provvedimenti cautelari a carico di una settantina di persone responsabili di associazioni di tipo mafioso, riciclaggio e fraude fiscali di prodotti petroliferi. Contestualmente sono in corso sequestri di immobili, società e denaro contante per un valore di circa un miliardo di euro. L'operazione secondo quanto si è appreso è frutto di quattro diverse indagini, coordinate dalle diverse procure antimafia di Catanzaro, Reggio Calabria, Napoli e Roma e dalla Direzione Nazionale Antimafia. Le indagini sono confluite nella maxi operazione alla luce del fatto che avevano ad oggetto le stesse dinamiche criminali, anche se con soggetti coinvolti diversi. Sul fronte anticamorra hanno operato la DDA di Napoli e Roma, a mezzo di indagini rispettivamente sul cammoccia e sulla Max Petrol SRL. Tra le indagini condotte dalla DDA di Napoli, negli ultimi 15 anni su Moccia, quella odierna mette in luce le più attuali evidenze degli interessi dei Moccia nell'economia legale, in particolare nel settore strategico dei petroli. Questa attività prende le mosse nel 2015 da un'indagine del GICO della Guardia di Finanza di Napoli, su delega della DDA na partenopea, che riguardava inizialmente rilevanti investimenti del clan Moccia nei settori dell'edilizia e del mercato immobiliare. Attraverso una serie di operazioni societari, il gruppo è entrato in rapporti con la Max Petrol SRL di Anna Bettozzi, che aveva ereditato l'impero di Sergio di Cesare, noto petroliere romano. La Bettozzi, trovandosi a gestire una società in grave crisi finanziaria, grazie alla conoscenza di Coppola, era riuscita a ottenere forti iniezioni di liquidità da parte di vari clan di Camorra, tra cui quelli dei Moccia e dei Casalesi, che l'avevano consentito di risollevare le sorti dell'impresa, aumentando in modo esponenziale il volume d'affari, passando da 9 milioni di euro a 370 milioni di euro in tre anni. Il successo imprenditoriale consentiva inoltre agli indagati di mantenere un elevato tenore di vita, fatto di sontuose abitazioni, gioielli, orologi di pregio e auto di lusso. Per la raccolta delle ingenti somme liquide derivanti dalla frode, il clan Moccia si avvaleva di una vera e propria organizzazione parallela, autonoma e strutturata, alta al riciclaggio di elevate risorse finanziarie, gestita da colletti bianchi, attiva sia sul territorio partenopeo che su quello romano. Come emesso dalle indagini napoletane, la rilevanza dell'incipiente business dei Moccia nel settore degli oli minerali, nel quale quel clan era diventato egemone, proprio grazie ai prezzi super competitivi ottenuti grazie alle frodi, provoca reazioni anche violenti da parte di altri clan della Camorra. Alberto Coppola subisce due attentati con esplosioni di colpi di pistola, a seguito dei quali non esita a chiedere aiuto al suo referente e parente Antonio Moccia che si attiva. Ne consigue una PAX mafiosa, imposta dai Moccia e suggerata con la cessione di una quota dell'impianto di carburanti al clan Mazzarella.